Saluto a tutti e benvenuti in un altro episodio di Fisicamente Aula Studio. Oggi vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta sotto a un video nel canale principale in cui un utente mi chiedeva dove i fisici, gli astrofisici, insomma in generale, quelli che fanno ricerca nell'ambito della fisica, vanno a vedere gli articoli scientifici che sono stati pubblicati. Ed è per questo che oggi con voi voglio parlare di questo sito archive.org che è praticamente il pane quotidiano per chi fa ricerca. Io e i miei colleghi quando alla mattina si arriva sul posto di lavoro, la prima mezz'ora si passa semplicemente a vedere quali sono stati gli articoli, che in inglese si chiamano i paper, i paper che sono stati pubblicati il giorno precedente. Questo è un sito di riferimento dove appunto tutti i ricercatori possono pubblicare i loro lavori. Non è un sito internet che fa le revisioni degli articoli, cosa vuol dire? Di solito nelle riviste specializzate un articolo prima di essere pubblicato deve essere sottomesso all'esame di una giuria, diciamo, che di solito sono altri ricercatori nello stesso ambito di ricerca. E questi ricercatori fanno le pulci in ogni singola riga, virgola e numero degli articoli che vengono sottomessi. E se l'articolo ha l'ok di questa commissione di inchiesta, chiamiamola così, allora l'articolo esce, altrimenti deve o viene completamente rigettato subito, oppure viene suggerito di fare una review, quindi una revisione, andare a chiarire meglio un punto, andare a cambiare questa analisi, se ci si mette d'accordo, insomma, fino a quando poi, prima o poi, l'articolo viene pubblicato. Qui, questo invece, è un sito relativamente libero, diciamo. E cosa serve questo sito libero? Serve per non farsi fregare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un ricercatore scientifico ha fatto un articolo su qualcosa di estremamente nuovo, prima di tutto vuole fare in modo che questa sua scoperta, queste sue analisi, vengono pubblicate a nome suo. Quindi, in primis, un ricercatore lo mette qui, ed è subito e immediatamente visibile dalla comunità scientifica. Poi lo sottomette alle riviste specializzate. Una volta che ha avuto l'ok della rivista specializzata, allora torna qui e dice, guardate, io ho fatto questo lavoro, l'ho pubblicato già pubblicamente due mesi fa, però adesso posso anche dire, questo è stato ufficialmente approvato da Astronomy & Astrophysics, J&J, M&Rush, le diverse riviste della ricerca. Adesso io ho citato quelle nell'ambito dell'astrofisica, però può dire, guardate, l'ho pubblicato mesi fa, però adesso è ufficialmente accettato. Questo è quello che si chiama il piede nella porta, ossia si cerca di farlo apparire con il proprio nome prima possibile, prima di essere fregati. Perché magari tu hai sputato sangue un anno, due anni, su un determinato lavoro, un tuo concorrente dall'altra parte del mondo stava facendo la stessa cosa, però se tu lo pubblichi anche un mese prima, la gente sa che tu hai il diritto di priorità su questo determinato lavoro. All'interno di questo sito archive ci sono diversi campi, all'interno della fisica c'è astrofisica, con le ulteriori sottospecie di astrofisica delle galassie, cosmologia e astrofisica non galattica, astrofisica dei pianeti e della Terra e via dicendo. Poi c'è sempre all'interno della categoria fisica, fisica della materia, relatività generale e cosmologia quantistica, fisica delle alte energie, fisica matematica, scienze non lineari, fisica nucleare sperimentale, fisica nucleare teorica e via dicendo, fisica quantistica e via dicendo. Poi c'è anche la parte di matematica, c'è la parte di computer science, che non so neanche come si traduce in italiano, credo sia anche in Italia computer science, biologia, finanza, statistica e via dicendo. Però ovviamente come potete vedere il grosso è di fisica, perché essenzialmente questo sito nasce per collezionare gli articoli di fisica. Come si può fare per consultarlo? Vi dico quello che faccio io tutti i giorni. Io ho sempre la pagina degli articoli relativi all'astrofisica e nella fattispecie è la sottopagina chiamata dei recenti. Ossia, questo cosa vi fa vedere? Vi fa vedere i 25 articoli, solo i primi 25, che sono stati sottomessi il giorno precedente. E questi, quindi, sono quelli pubblicati il giorno precedente di venerdì 10 luglio. Perché si dice il giorno precedente? Perché di solito la sottomissione viene fatta alle 10 di sera. Questo perché? Perché in America è metà pomeriggio, però qua in Europa, con il fuso orario dell'Italia, della Germania e via dicendo, sono alle 10 di sera. Quindi di solito i ricercatori stanno in piedi, in ufficio, ovunque, con il computer sotto mano, alle 10 di sera, sono pronti a fare click. Devono farlo pochi secondi dopo le 10 di sera, in modo da essere i primi. Quindi, per esempio, questo articolo, che è il primo a uscire, è stato sottomesso con un click fatto pochi istanti dopo le 10 di sera. Questo è stato fatto pochi centesimi di secondo dopo e via dicendo. Ora diciamo che, se tu vai a vedere i primi 25 pubblicati ogni giorno, stai vedendo, diciamo, la crema dei nuovi articoli. E uno va in resegna, vede, il primo è evidenze dinamiche di una struttura a bracci guidati da un pianeta nel disco protoplanetario di MWC 758. Articolo un po'... Titolo sicuramente criptico, però per gli esperti e lavori questi sono cose note. È chiaro che, per me, che ho fatto pianeti extrasolari, questo è un titolo che io riesco a capire dalla prima all'ultima parola. Se andiamo a vedere altre cose, tipo... clustering, quindi raggruppamento del... Clustering Dark Energy Imprints on Cosmological Observations of a Gravitational Field. Difficile anche da tradurre. Quindi, impronte del clustering dovuta all'energia oscura sulle osservazioni cosmologiche del campo gravitazionale. Io che non sono un esperto di cosmologia, perché sì, l'ho studiato all'università, ma non ho mai fatto ricerca in ambito cosmologico, questo è un titolo un po' criptico per me, spettro delle onde gravitazionali dalla transizione di fase estremamente super fredda. Anche questa, questa credo sia fisica teorica applicata alle onde gravitazionali, comunque cosmologia, e via dicendo, ognuna di questi titoli è un articolo. Come si fa a vedere l'articolo? Ma si clicca semplicemente qua, adesso io ve lo apro in una nuova finestra, andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, si parte, abbiamo il titolo che abbiamo già visto, e poi qua c'è di solito la sfilza di tutti gli autori e dei coautori. Quando voi andate a vedere un articolo, Bin Ren, credo sia Ren il cognome, un articolo viene poi citato di solito come Ren et al, che vuol dire e collaboratori, e poi l'anno, quindi questo sarebbe l'articolo Ren et al 2020. Questo è il modo in cui gli articoli vengono citati negli altri articoli. Poi di solito qui c'è un piccolo abstract che non è nient'altro che un riassunto di quello che si è andato a fare, dei risultati raggiunti, di quello che uno voleva aggiungere con questa analisi, e questo è, diciamo, il piccolo riassunto. Se poi volete vedere l'articolo vero e proprio, basta cliccare qui su PDF, e voi potete scaricare l'articolo. La cosa bella è che questo sito, sì, non avrà l'approvazione da una giuria perché non è stato revisionato, però è completamente libero, è libero di poter vedere. Quindi vedete, questi sono tutti gli autori, quattro righe, quindi avrà una venticinquina di persone, che non è tanto, è la normalità, ci sono articoli da una persona, da due persone, ma anche articoli che vengono fuori da un consorzio, quindi una collaborazione tra diversi istituti di ricerca, possono avere anche una cinquantina, sessantina di nomi. Con i numeretti, qua, poi vengono menzionate anche le affiliazioni, ossia, io posso vedere questo Binran, ah, vedete, questo è sicuramente un nickname inglesizzato di un nome, credo, asiatico, non saprei assolutamente identificare che lingua sia questa scritta, non so se è cinese, giapponese, coreano, non ne ho la minima idea. E questo ragazzo lavora al California Institute of Technology, e poi vi dicendo, ci sono altre università in Canada, in Olanda, in Chile, in USA, in Francia, Cile di nuovo, vediamo se c'è qualcosa dell'Italia, eccolo qua, c'è l'osservatorio astronomico di Ercetri a Firenze, Belgio, Tucson, e via dicendo. Quindi questa è l'articolo, la prima pagina dell'articolo, qua, come vi dicevo, l'abstract, lo possiamo leggere brevemente insieme, più di una dozzina di stelle giovani ospitano, o hanno intorno a loro, delle braccia a spirale nel disco protoplanetario che le circonda. Il meccanismo di eccitazione di questi bracci è sotto dibattito, quindi ne stanno discutendo, non è ancora chiaro. Le due ipotesi principali sono che ci sia un'interazione tra questo disco protoplanetario e un compagno di disco, che vuol dire semplicemente un pianeta, o un protopianeta, oppure l'instabilità gravitazionale. Ve la faccio corta, sì, quello che vanno a vedere è, osservano il disco protoplanetario di questa stella, che è un nome in codice, semplicemente il nome della survey, a differenza di cinque anni e cercano di capire quale di queste due ipotesi è la più probabile. Adesso non voglio fare un video troppo lungo, andiamo direttamente a vedere di cosa parlano, di solito all'inizio c'è un'introduzione in cui fanno un po' di storia, vedete qui citano altri articoli con esattamente la nomenclatura che avevo fatto vedere prima, quindi primo nome e tal e poi l'anno della pubblicazione, parlano degli articoli già pubblicati, lavori simili, quello che uno ha spiegato, quello che uno ha detto, poi si parla di solito delle osservazioni, ossia dei dati con cui partono e la data reduction, la riduzione dati, ossia i metodi che hanno utilizzato, gli algoritmi che hanno utilizzato per l'analisi dei dati, ecco e poi arriviamo, di solito ci sono anche delle immagini, specialmente come questo articolo che è abbastanza osservativo e questo si vede, e qua si vede quindi due foto fatte a questa stella a cinque anni di distanza, questa è stata fatta nel 4 marzo del 2015 e questa il 18 novembre del 2019. Qua nel mezzo questo disco nero è praticamente come un tappo, una maschera che è stata messa per bloccare la stella, la luce che viene dalla stella centrale che è molto molto più forte del disco che sta intorno e quello che si vede è che sicuramente c'è stata una modifica della distribuzione della materia in questo disco protoplanetario e quindi quello che loro vanno a vedere è quale delle due ipotesi, analisi, ecco, vanno a vedere probabilmente quale delle due ipotesi è esatto, allora questo è esattamente quello che stavo per dire la linea blu sono i dati del 2015 con la teoria della perturbazione gravitazionale avrebbero, si sarebbero aspettati che questa linea blu da qui nel 2015 si sarebbe spostata qui nel 2019 però i dati misurati nel 2019 sono in realtà questa linea verde quindi cosa sta a dimostrare che probabilmente la instabilità gravitazionale non è la teoria migliore per spiegare questo genere di osservazioni da notare anche come lo scattering e quindi l'errore delle misurazioni del 2015 sono sensibilmente superiori allo scattering quindi al rumore al noise delle misurazioni del 2019 ovviamente così perché nel mezzo ci sono stati quattro anni di evoluzione delle tecnologie osservative del telescopio dello strumento vi dicendo ed è per questo che le misure verdi sono più precise e nulla poi c'è appunto la parte della discussione in cui si arrivano alle conclusioni dynamically constrained ok quindi alla fine si arriva a dire risultati summary esatto arrivano a dire che probabilmente quello che sta orbitando intorno a questa stella che pesa quasi due volte la massa del sole 1,9 masse solari è un pianeta che orbita a 172 unità astronomiche quindi 172 volte più lontano rispetto alla distanza tra la terra e il sole e ha una massa che molto probabilmente non supera le 5 masse gioviane quindi è un pianeta abbastanza consistente ancora molto lontano e ha 174 volte la distanza tra la terra e il sole intorno a questa stella che hanno osservato e questo poi ci sono i ringraziamenti come sempre e poi ci sono di solito esatto le appendici dove si va un po' più in dettaglio benissimo questo era quello che vi volevo raccontare per quanto riguarda la libreria diciamo dove ogni mattina un astrofisico inizia il suo lavoro per essere sempre aggiornato relativamente ai lavori dei colleghi e sperare che nessuno li stia freguando facendo esattamente una ricerca nello stesso campo e nulla come sempre se avete domande lasciatemi un commento spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video